26 novembre 1929 nasce beppe modenese storico inventore e promotore del made in italy piemontese di nascita e milanese d'adozione dopo alcuni anni in rai si dedica al lancio internazionale della grande moda italiana inventando ed organizzando a firenze nella sala bianca di palazzo pitti la prima sfilata collettiva delle firme dell'alta moda è il 1952 parigi domina il settore con lotte culture ma a sostenere le qualità manageriali di modenese ci sono l'audacia unita a una visione coraggiosa del domani scommessa vinta coordinatore delle sfilate di milano moda insieme con stilisti sempre più celebri nel 1978 crea la prima rassegna del pret-à-porter momi milano collezioni la rivista women's wear daily nel 1983 lo definisce primo ministro del fashion un decennio dopo l'altro guida saldamente la camera nazionale della moda e ogni tanto si diverte a scoprire e lanciare talenti anomali dolce gabbana il caso più eclatante beppe modenese ambasciatore dell'eleganza italiana muore a milano 91enne il 21 novembre 2020 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti